Toro, il vostro umore è in linea con la marina di Piazza. L'inconia della giornata con tanti pianeti immobili e silenziosi nella dodicesima casa. Svogliatezza e scarsa motivazione al lavoro. A comportarvi tanti amici sinceri che fanno il tifo per voi. Gemelli, con il sostegno di tanti pianeti la giornata inizia sotto i migliori auspici. Raggiungere i vostri obiettivi sarà un gioco da ragazzi. Un incontro inaspettato con un'amica di vecchia data vi farà cambiare i programmi per la serata. Cancro, al lavoro vi date da fare ma la volontà di chi vi è accanto interviene a cambiare le carte in tavola mandando all'aria i vostri programmi. Bisticci anche in coppia in uno stancante braccio di ferro per stabilire chi dei due vincerà la partita. Leone, giornata fortunata. Complice il quartetto formato da luna, venere, marte e urano. Intrigono al segno. Siete in una botte di ferro, anzi d'oro. Chance per i leoni solitari. Magari non troverete l'altra metà della mela ma qualcuno che le somigli parecchio. Vergine, presa a piccole dosi, la pigrizia è un lusso necessario ma esagerando si trasforma in una giornata persa che potreste rimpiangere già domani. Unico vero amico Plutone che oramai vi puntella da anni. Anonime e gnave tutte le altre stelle. Bilancia, giornata da archiviare tutti uno contro l'altro. Voi, il partner, i figli, i suoceri, i genitori e via una catena infinita di bronce battute al vetriolo. Anche un accordo tra soci rischia di saltare. Voi innescate la polemica. Gli altri reagiscono in malo modo. Scorpione è la giornata ideale per mettere a fuoco ciò che non va in ambito professionale e prepararsi ad un abile cambio di obiettivo o di strategia. Evitate però di pensare troppo in grande e valutate bene i mezzi e le risorse che avete a disposizione. Sagittario, non è da voi lasciarsi sfuggire un'occasione per fare baldoria, soprattutto quando una luna così focosa e frizzante vi chiama al divertimento. Così, nonostante il carico di impegni del giorno feriale, farete di tutto per accettare il suo invito. Capricorno, meglio lasciarvi cuocere nel vostro brodo, oggi che i pianeti in ariete vi provocano apertamente facendovi perdere del tempo prezioso. È vero che siete notoriamente pazienti, ma tutto ha un limite. Quando è troppo, è troppo. Acquario, giornata dinamica e frizzante. Le stelle vi spingono a uscire, incontrare gente nuova, a curiosare nel mondo dello spettacolo e della cultura. Ideale per organizzare un viaggetto d'affari o di piacere, magari facendo un'improvvisata ad amici lontani. Pesci, se il lavoro c'è, bisogna sbrigarlo, soprattutto se il guadagno arriva in diretta. Di quattrini avete un gran bisogno, facili come siete alle spese pazze. In tema di acquisti, oggi date proprio il massimo. Vi infatuate di ogni articolo esposto in vetrina.